Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qui con un video offerto gentilmente dal programma che tra poco andrò a mostrarvi è un programma molto interessante che in alcuni casi secondo me potrà servire a molti di voi ora ci spostiamo subito nel desktop e vi faccio vedere a cosa serve allora ragazzi qui come potete vedere il programma si chiama Kids World Pro for iOS cosa serve a questo programma? allora intanto in descrizione trovate tutti i link per l'acquisto, da dove scaricarlo, le istruzioni eventualmente per scaricarlo questo programma una volta scaricato e acquistata la licenza che in questo caso io ce l'ho per 3 mesi si scarica il programma e si mette l'email che avete utilizzato per l'acquisto e poi la vostra password io ora metto la password ok allora in questa schermata come potete vedere a parte questo centro di messaggi si può chiudere ci abbiamo la possibilità di scansionare i backup di iTunes ora questo programma può fare diverse cose iniziamo da questa in primis se noi abbiamo dei backup di un iPhone su iTunes fatto su questo computer dove è installato il programma ci compariranno qui, ci comparirà l'iPhone che è stato utilizzato, di chi è che è stato utilizzato appunto, che ha fatto il backup noi queste icone diciamo non chiare ok? sono come potete vedere backup incompleti questo invece è un backup completo allora se io vado ad aprire un backup completo clicco qui, faccio next ora ve lo faccio vedere ma prima ve lo spiego compariranno tutto quello che c'è nel backup quindi noi avremo la possibilità di leggere messaggi di whatsapp, foto, video, messaggi, sms direttamente in chiaro, direttamente tramite questo programma questo semplicemente perché si andrà a leggere il telefono, appunto il backup che è stato selezionato inoltre qua si potrà anche collegare il vostro nuovo smartphone fare un altro backup, se qui non dovesse comprire l'alizia e seguire poi le istruzioni per vedere effettivamente cosa si andrà a fare e cosa c'è all'interno di quell'iPhone si può anche importare un altro backup, per esempio noi abbiamo un backup da un'altra parte clicchiamo appunto su import, si aprirà la schermata e noi possiamo importare il backup possiamo scaricare questo programma sia per iOS che per Android ma lo possiamo utilizzare sia su computer Windows che su computer Mac in questo caso io lo utilizzo sul Mac ad aprire questo backup verrà fatta appunto la scansione di questi file, insomma di quello che contiene questo backup ci vorrà qualche minuto, dipende alla fine da quello che c'è e qui compaieranno tutte le informazioni, quindi il nome del device, la versione del iOS, l'account web, quello che è stato utilizzato e poi tutti qui di lato troviamo le varie funzioni noi come potete vedere possiamo vedere anche i messaggi di WeChat, altri social che non si sono le note i messaggi, le memo vocali, i safari, i contatti, le foto, i video in questo momento io non c'è niente perché in questo backup non c'è niente però ecco questo è quello che si può utilizzare, a che cosa può servire questo programma perché vi consiglio di poter utilizzare questo programma, perché può tornare utile appunto se noi vogliamo reperire qualche informazione che abbiamo su un precedente backup e che abbiamo o cancellato dal telefono e quindi non vogliamo fare un ripristino oppure magari l'avevamo salvata prima e poi abbiamo cancellato il messaggio l'abbiamo salvata il presente backup, il telefono, abbiamo cambiato il telefono, si è rotto il telefono non vogliamo ripristinare tutto il backup però vogliamo delle informazioni che c'erano nel presente telefono possiamo fare tutto da qui, l'importante è fare un backup completo ora vi faccio vedere anche un'altra funzione appunto rientrando, vi faccio vedere che se si vuole si può collegare il device qui lo chiede, ok, importante, negli iPhone vi verrà chiesto a volte di accettare ovviamente, di autorizzare insomma la schermata di abilitare l'USB, i risultati di connessione USB, bisogna andare semplicemente nelle impostazioni, andare su FSD e password e scendere sotto qualsiasi alla fine e cliccare su USB accessorio, se abilitare USB accessorio io spero che questo programma possa essere utile ad alcuni di voi, come sempre ci vediamo ad un prossimo video in descrizione trovate tutti i link utili, ringraziamo ovviamente lo sponsor di questo video come sempre ci vediamo ad un prossimo video, per qualsiasi dubbio mi trovate nei commenti